benvenuti nel video tutorial dedicato al punto chiamato marche o punti molli questo punto serve per segnare il contorno del cartamodello in questo caso vi farò vedere un fondo di un pantalone l'ideale se si vogliono passare le marche è quello di avere il cartamodello senza i margini di cucitura e quindi ritagliarli e lasciare il margine direttamente sulla stoffa si può passare il gesso attorno al cartamodello oppure come in questo caso dell'orlo posso semplicemente piegare il mio cartamodello questo punto si fa con filo da imbastire il filo deve essere singolo non si fanno nodini e bisogna partire esattamente dove inizia il cartamodello in questo caso qui piego si entra si esce con l'ago la distanza del punto ideale sono 7 mm quindi un po meno di un centimetro si lascia il filo lungo e si prosegue questo punto per tutto il nostro contorno quindi in questo modo faccio uscire e lascio questa piccola asoletta e proseguo per tutto il mio cartamodello in questo caso è solo un campione eseguirò il punto solo fino alla fine dell'orlo ecco qui il risultato vi ricordo che è solo un campione e del fondo dei pantaloni avrei dovuto farle su tutto il contorno del mio cartamodello questo è il risultato sono questi occhielli che poi le stoffe verranno separate in modo che sul rovescio del tessuto dove prima c'erano le asolette rimango un filo teso tipo un'imbastitura verranno tagliate questa è una tecnica classica che serve per segnare il contorno del cartamodello così da facilitarne poi l'assemblaggio con i vari pezzi dove vedete i peletti tagliati è il dritto del tessuto dove si vede il filo teso è il rovescio del tessuto spero di esservi stata utile ai prossimi video ciao ciao